istruzione, ma prima gli aggiornamenti sulla crisi di governo in corso. Nella tarda serata di ieri c'è stato a sorpresa il primo faccia a faccia tra Di Maio e Zingaretti, nodi da sciogliere, ma il confronto resta aperto. Seguiamo Francesco Maesano. Oggi è il giorno della riflessione. I palazzi della politica restano chiusi, altra atmosfera rispetto alla confusione di questi giorni. Giornata di contatti informali in una crisi che non risparmia colpi di scena. A sorpresa, ieri sera Di Maio e Zingaretti si vedono per il primo faccia a faccia di questa fase delicata. Sono le 21, l'incontro a casa del sottosegretario Spadafora. I due restano soli e calano le carte sul tavolo. Al centro la premiership. Di Maio propone un conte bis. Zingaretti risponde di no. Dopo un'ora i due si salutano, le posizioni non sono cambiate. Dal Nazareno si parla di un incontro cordiale, pur ribadendo un no a ipotesi di Conte o Di Maio a Palazzo Chigi. Nulla di personale, ma serve discontinuità, spiega Zingaretti. L'esperienza degli ultimi 15 mesi non è stata positiva. Poi il messaggio al Movimento. Mi auguro che un doppio forno con la Lega non ci sia. Sarebbe grave. Oggi e domani, prosegue il segretario, il Nazareno è aperto e continueremo a lavorare per aprire una nuova stagione politica. Sono ottimista. Dai 5 Stelle filtra la sensazione di una strada in salita, di un canale con la Lega non interrotto, almeno dal punto di vista delle sollecitazioni che arrivano dall'ex alleato e si ribadisce la rigidità sul nome di Conte per Palazzo Chigi, che anche ieri Grillo ha sostenuto dal suo blog, sul taglio dei parlamentari e sui 10 punti indicati da Di Maio. Il PD non ci può dettare le condizioni, dice il capo politico del Movimento ai suoi, nodi da sciogliere entro mercoledì, quando il Quirinale attende una risposta chiara.